Buona domenica per la giornata di oggi 12 novembre, il sito su Notizie in Uncris, veniva su portare l'informazione e io sono Loredana qui con voi per leggervi alcuni titoli di articoli che abbiamo pubblicato e che continueremo a pubblicarne del nuovi nel corso della giornata. Quindi, come dico sempre, se viva rimanete con noi. Sabato 18 novembre, Torino, il concerto per celebrare la festa della dipendenza nazionale della Polonia. Eventi, cultura e spettacolo, il comitato provinciale dell'Unicef di Bologna è felice di presentare il libro Bambini al tempo del lockdown. Bezze stagioni, il nuovo singolo dei Muno. Come guadagnare? Nasce il portale dedicato ai guadagni. Governo Schlein, Meloni vuole una sanità in cui il ricco salta la fila estera. Con piano di recarlo, di vieto di nominare, di delusione. Questo e molto altro potete trovare nel nostro portale di informazione. Grazie per essere stati con noi e io vi do appuntamento alla nostra prossima minera segna. Loredana. 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 Loredana.